Produzione e lavoro responsabili Plinio Agostoni, vicepresidente di ICAM, produttore di cioccolato, stanno facendo i cambi di microfono, Valerio Capizzi, responsabile energia EMEA ING, Simone Mori, presidente dell'elettricità futura e responsabile degli affari europei di Enel, Rossana Revello, coordinatrice di sostenibilità e corporate social responsibility per Confindustria e Stefano Veniera, amministratore delegato di ERA Group. Vedo che li chiamo tutti ma non sale nessuno e questo è un segnale inquietante. Vediamo se qualcuno di voi è pronto. Plinio Agostoni, lo vedo, eccoci qua. Prego. Buongiorno. Io parto da lei anche perché è arrivato per primo, aspettiamo che si seggano tutti, ma io intanto partirei dal caso ICAM. Prego. Mentre il microfono no. I nostri ospiti. Buongiorno. 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 No, allora partiamo da ICAM perché lo stabilimento di ICAM è interessante, è uno stabilimento dove l'imprenditore ha deciso di investire decine di milioni di euro in tempi in cui ancora non si parlava di industria 4.0, ma in realtà la scelta è stata proprio quella, cioè inserire una serie di tecnologie all'avanguardia per consentire sostanzialmente due cose, intanto aumentare di molto l'attività produttiva, la capacità produttiva, quindi in quel momento c'era la necessità di crescere, ma l'altro aspetto fondamentale è la flessibilità nella decisione, nella gestione della produzione. Loro producono centinaia di ricette, in realtà uno pensa al cioccolato e pensa a un oggetto abbastanza standard, non è così, ci sono centinaia di ricette e ICAM ha messo in piedi un meccanismo per cui semplicemente, io dico semplicemente, è sempre più facile dirlo nelle tavole rotonde che vediamo vederlo da vivo, però semplicemente digitando un codice l'intera linea si riattrezza per poter gestire quel tipo di ricetta, quindi i macchinari in serie vanno a inserire gli ingredienti in una certa misura, con delle temperature, con delle pressioni particolari, per cui si riesce a ridurre il tempo di riattrezzaggio da una produzione all'altra in modo estremo, migliorando l'efficienza e garantendo anche dei risultati in fortissima crescita, perché voi da anni siete al record storico di fatturato, quindi insomma l'investimento si è ripagato. Plinio Agostoni, Presidente di ICAM. Grazie. Beh, l'investimento si è ripagato, l'investimento è stato un investimento direi folle, nel senso che un'azienda che fatturava circa 100 milioni ha investito circa 70, quindi non è proprio una cosa... Comunque sì, certamente è un investimento che ha tutte queste caratteristiche e prendo l'occasione per dire una cosa molto importante, cioè che parliamo di sostenibilità, la sostenibilità è sempre una sostenibilità di filiera, cioè voglio dire a partire dall'acquisizione delle materie prime per andare fino al prodotto finale, finito, occorre una coerenza, perché se io ho una materia prima di un certo tipo e poi ho una trasformazione che non rispetta la qualità di provenienza, non riesco poi ad andare sul prodotto finito con quella coerenza che mi permette appunto di piazzare il mio prodotto, quindi di avere la sostenibilità. Quindi questa è l'idea base che ci ha mosso e appunto per questo siamo passati da una produzione di circa, noi nello stabilimento di Lecco, potevamo produrre fino a 12 mila tonnellate, oggi siamo sulle 25 mila. Tra l'altro questo sempre in ottica di sostenibilità con dei vantaggi importanti, o meglio con dei ritorni importanti in termini di sostenibilità, per esempio il consumo d'acqua è 20 volte inferiore rispetto allo stabilimento di Lecco. Le emissioni di CO2, avendo noi un trigeneratore, per cui produciamo energia elettrica, ma non solo, energia termica, quindi vapore, acqua calda, acqua fredda, d'altro generatore, abbiamo un'efficienza doppia rispetto a quello che avrebbe un generatore in centrale. E quindi l'emissione del CO2 è dimezzata. Così pure l'emissione di odori o di rumori, è tutta una questione di attenzione all'ambiente anche in senso del location in cui siamo, che nel nostro stabilimento viene considerata. Questo soprattutto è importante perché così si rispetta e si valorizza tutto il nostro sforzo nell'acquisizione della materia prima. e se posso dire una cosa su questo punto perché è una delle nostre caratteristiche. Noi siamo infatti un'azienda che è anomala, direi virtuosamente anomala, nel senso che l'acquisizione del cacao, che è la materia prima fondamentale, è un'acquisizione diretta, cioè noi compriamo direttamente dai contadini, dalle cooperative del terzo mondo, soprattutto America Latina e in parte Africa, ma soprattutto America Latina dove c'è il tipo di cacao, le qualità più prestigiose, più aromatiche. Ma questo tipo di rapporto non è solo un rapporto cliente-fornitore, è piuttosto un appartenariato. Cioè noi con le cooperative, oltre a quello che diceva prima Dottor Scordamaglia, quindi il rapporto diretto per cui il produttore ha l'acquirente, certo, per cui sia le quantità che i prezzi sono definiti, ma soprattutto è un partenariato che ha permesso in molti anni di aumentare la quantità e la qualità del prodotto delle cooperative rendendole sostenibili. Per esempio in Peru, in molte aree, appunto per la sostenibilità, per la produttività delle piantagioni, si è potuto documentare come fu fatto durante l'Expo, assieme appunto al governo peruano, il passaggio spontaneo di centinaia, no direi decine di migliaia di ettari dalla coltivazione di coca a quella del cacao. Oppure le cooperative in Dominicana che erano dei poveracci, che oggi sono cooperative fiorenti che possono anche permettersi di mandare i figli ad Harvard. Quindi questa è la sostenibilità, cioè aumentare la quantità e la qualità, quindi il prezzo del prodotto e questo è possibile quando c'è un rapporto di partenariato fra un'azienda come la nostra e i produttori. Quindi non solo un rapporto cliente-fornitore, ma un vero accompagnamento in ottica di miglioramento, quindi poi di sostenibilità. Grazie, Primo Agostonio. Stefano Veniera, amministratore delegato di IRA Group, che è un caso interessante perché è un'azienda che ha messo gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, l'agenda 2030 dell'ONU, dentro la propria strategia, incardinata addirittura nelle presentazioni che vengono fatte in termini di presentazioni agli investitori. Quindi si declina l'attività del gruppo, si va a capire e a inserire anche graficamente e fisicamente quali sono gli obiettivi, mi pare siano 10. Per ciascun obiettivo ovviamente voi non è che potete combattere la povertà mondiale, la fame nel mondo, ecco diciamo l'azienda riesce a fare tanto ma non tutto. Però avete identificato quelli su cui una multi utility come voi può incidere, sono 10 obiettivi declinati in diversi modi con delle misurazioni che tra l'altro vanno a incidere anche nella remunerazione interna, nei pacchetti di benefit dei manager e non è una storia particolarmente frequente in Italia ed è uno dei motivi per cui era tra l'altro viene contesa in tutte le presentazioni in cui si parla di questo. Che risultati vi sta dando questo? Quando un manager non riceve il bonus e le dice sì vabbè però come facevo a raggiungere questo neanche l'ONU riesce a raggiungere questo obiettivo, cioè non suscita un po' di problemi all'interno questo meccanismo? Ma non lo so, questo qui non l'ho ancora vissuto, nel senso che fino ad ora per come è andata lo hanno preso, i target li hanno presi e quindi il bonus lo hanno preso, quindi è una cosa che non lo so, magari la vivremo nel prossimo futuro quando i target saranno diventati troppo alti. Sì in effetti quello che dice lei è assolutamente corretto, noi abbiamo abbracciato comunque interpretato 10 dei 17 fatti nostri, 10 dei 17 obiettivi, ma soprattutto li abbiamo declinati in una strategia con tre linee strategiche semplici, il nostro ruolo essendo un'azienda di servizi è quello di promuovere un utilizzo intelligente dell'energia, cosa vuol dire? Vuol dire lavorare al nostro interno per promuovere e indirizzare gli obiettivi di sviluppo nell'utilizzo delle fonti rinnovate in tutti i sensi, termica ed elettrica e anche ovviamente il metano attraverso il biometano e dall'altro combattere il tema dei gas clima alteranti promuovendo tutti i processi di decarbonizzazione e su questo abbiamo misurato e su questi temi ci siamo misurati e misuriamo l'attività dell'azienda. L'altro grande capitolo, sono tre poi alla fine perché i dieci li abbiamo raggruppati in questi tre gruppi, il secondo è essendo noi il più grande operatore italiano nel mondo dei rifiuti, quindi della materia che è considerata uno scarto ma che in realtà può avere una nuova vita promuovere l'utilizzo efficiente delle risorse, che non è solo la materia. Oggi qui negli interventi che ho seguito stamattina si è parlato spessissimo del tema dell'acqua. L'acqua è un tema critico, sta diventando un tema molto critico anche all'interno di questo territorio dove noi operiamo. Ecco che allora riuscire a promuovere iniziative anche con i soggetti del territorio per ridurre l'utilizzo d'acqua, ovvero un utilizzo più efficiente dell'acqua attraverso il riuso ma anche l'utilizzo consapevole diventa un elemento fondamentale. Il terzo asse, siccome siamo un'impresa di territorio, lavoriamo in un territorio, naturalmente promuovere uno sviluppo dell'ecosistema nel quale operiamo, questo attraverso ovviamente tutte quelle attività un pochino più sociali che coinvolgono cittadini, studenti, giovani, i nostri lavoratori. Questi tre assi qui, come diceva giustamente lei, li abbiamo inseriti anche all'interno del sistema di remunerazione del management e misuriamo anno per anno, ma abbiamo voluto dare una prospettiva anche in questo e la parte prevalente di questi obiettivi in realtà è negli obiettivi di medio termine, quelli che sono obiettivi triennali, anche perché lo sviluppo di questi temi qui ha necessariamente una prospettiva di medio e lungo termine. Non solo, ma per chi mi ha preceduto si poneva anche il tema, mi pare a fronte di una sua domanda, dice ma i consumatori si accorgono? Anch'io ho tanti consumatori, servo 4 milioni di cittadini, 4 milioni di abitanti all'interno del territorio, la domanda è ma si accorgono questi cittadini di questo modo diverso con cui l'azienda lo sta facendo. Questo devo dire che è un percorso ma ha sempre di più e perché nel nostro caso cerchiamo sempre di più di renderli protagonisti e quindi ci sono tutta una serie di progetti nel quale c'è il coinvolgimento dei cittadini, il primo di tutti ovviamente è quello legato al migliorare le modalità con cui si gestiscono i rifiuti a caso nelle imprese, ma che ha anche tanti altri progetti che riguardano il recupero del cibo e quindi la lotta agli sprechi, il riutilizzo dei beni per allungarne la vita utile, piuttosto che il recupero di tante altre attività che altrimenti sarebbero rifiuti. Ecco, questo è una chiave, quella che abbiamo chiamato Era Insieme, è una chiave per non solo rendere consapevoli ma anche partecipi dei cittadini, perché uno degli elementi fondamentali in questo tipo di percorso qui è che o lo facciamo in tanti e insieme o altrimenti singolarmente non è che andiamo lontanissimo. Questo credo sia un fatto fondamentale. Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura e responsabile degli affari europei di Enel. L'elettricità in tutte queste, anche nelle tavole rotonde di ieri, insomma alla fine il il modo con cui alimentare tutti questi percorsi e processi produttivi diventa cruciale, il cambiamento di queste alimentazioni. Cioè l'elettricità è la grande protagonista dei prossimi anni, lo vediamo anche fisicamente nelle colonnine che cominciano, anche se timidamente, ma insomma cominciano a spuntare nelle città. A che punto siamo della transizione e quali sono i cambiamenti più rilevanti che voi state vedendo dal punto di vista del fornitore di energia? Il settore dell'energia è un settore fondamentale ed è molto interessante in questo momento, quasi paradigmatico rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto in questi due giorni. Pensavo stamattina mentre guardavo la bellissima presentazione dei Giovannini su queste curve che noi dobbiamo riuscire a modificare, le tante aree di miglioramento, le tante strezzate che dobbiamo fare per riuscire a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità e di decarbonizzazione. Il mondo dell'energia più di ogni altro è una parte significativa del problema, l'energia è responsabile del circa 45% delle emissioni di CO2 a livello mondiale, ma nello stesso tempo l'energia è anche il settore dove più di ogni altro quella curva ha già cominciato a muoversi, cioè il cambiamento è già in atto, non è un cambiamento che noi dobbiamo proiettare nel futuro, è un cambiamento che noi già stiamo vivendo da diverso tempo. Questo è particolarmente interessante ed è chiaramente una guida per cercare la soluzione di questi problemi giganteschi, straordinari che richiedono un intervento condiviso fra società, politica, tecnologia. Basti pensare a un paio di dati. Oggi il principale paese al mondo che in termini di emissioni di CO2 è la Cina. Il cinese medio emette meno della metà dell'americano medio. Usando un altro dato, oltre un miliardo di persone, in gran parte concentrate nell'Africa subsahariana ma non solo, anche in altre zone del pianeta, non hanno accesso a nessuna fonte di energia elettrica, a nessuna fonte di energia moderna, che significa non poter avviare attività economiche anche di piccolissime dimensioni, non poter conservare i farmaci, non poter consentire a magari ragazzi che tornano dai campi a fine giornata di studiare e quindi di uscire dalla trappola della mancata educazione. È ovvio che se il modello di sviluppo fosse quello di portare i consumi energetici allineandoli come quantità e come qualità a quelle dei paesi più sviluppati ci troviamo di fronte a un'equazione irrisolvibile. Poi in realtà dicevo il processo è già nato, è già nato essenzialmente grazie ad alcune rivoluzioni tecnologiche spinte da buone polisi. Si è parlato più volte dell'accordo di Parigi ma la rivoluzione della produzione elettrica da fonti rinnovabili viene da lontano, ormai abbiamo già quasi un decennio di esperienze in tutto il mondo. Ancora una volta, un piccolo dato poi smetto di citare numeri, se andiamo a vedere gli investimenti fatti negli ultimi tempi a livello mondiale per la produzione di energia elettrica, il 75% di questi investimenti riguardano fonti rinnovabili, cioè ormai in tutto il mondo si sta largamente investendo in fonti rinnovabili. Perché c'è una maggiore sensibilità ambientale, perché ci sono politiche come in Europa che supportano questo tipo di investimenti, ma perché soprattutto grazie alle politiche messe in atto negli ultimi anni e grazie allo sforzo delle imprese e al miglioramento tecnologico, oggi le fonti rinnovabili sono il modo migliore, più efficiente, più economico e più semplice per produrre elettricità in tutto il mondo. Più facilmente accettabile dalle comunità, più facilmente accettabile sempre di più dai mercati finanziari, perché vedono nelle fonti rinnovabili un investimento che dal momento in cui viene deciso, al momento in cui comincia a produrre reddito, passa un tempo molto minore dei grandi, giganteschi, ciclopici progetti di grandi centrali, di grandi centrali che stavano nucleare a carbone che si facevano in tempo in giro per il mondo. Quindi è una rivoluzione in atto che ha come corollario il fatto che per portare i benefici di questa rivoluzione chiaramente l'elettricità deve diventare sempre più utilizzata anche a livello di osi finali. Cioè nel momento in cui è più facile ridurre le emissioni di gas clima alteranti passando dalle fonti convenzionali alle fonti rinnovabili nel settore elettrico, è giusto che questa elettricità decarbonizzata venga utilizzata quanto più possibile in settori che fino adesso hanno avuto più fatica nel processo di carbonizzazione. Pensiamo alla mobilità per esempio. La mobilità elettrica è una delle rivoluzioni invece che ci attende, è un processo che sta partendo oggi invece, qui siamo con qualche anno di ritardo rispetto alla rivoluzione dei fonti rinnovabili, la tecnologia sta arrivando, le politiche la stanno spingendo, è chiaro che anche in questo caso è un processo irreversibile dove le politiche e gli obiettivi di decarbonizzazione vengono eseguiti da un grande sforzo industriale, ormai tutte le grandi case automobilistiche si sono resi conto che la sfida è una sfida a cui non ci si può sottrarre, del resto parte dagli enormi investimenti che la Cina sta facendo proprio in questo settore, anche qua per risolvere problemi immediati di inquinamento. Magari andiamo avanti nel secondo giro sulla mobilità sostenibile, volevo coinvolgere su questo e sulle rinnovabili, Valerio Capizzi responsabile a livello europeo per ING del settore energia, quindi lontano dal petrolio, investiamo tutto, cioè dal punto di vista degli investitori oggi è questa l'area in cui occorre, sarebbe più saggio puntare? Sì, allora innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. Allora, riagganciandomi al tema delle fonti rinnovabili, io ho lavorato a un parco eolico per la prima volta nel 1997, parco eolico negli Stati Uniti, in Illinois, e lavoravo da poco in banca, c'era questa opportunità e in realtà l'intera comunità eolica rinnovabile mondiale si sarebbe potuta contenere all'interno di una stanza di 20 metri quadri. Quello che i miei colleghi più signori definivano quel gruppo era un gruppo di cowboy e c'era una componente di visione all'interno di quel mondo che oggi invece è diventato un mondo che a tratti io spesso penso sia diventato anche pop fashion, un po' alla moda, parlare di rinnovabili. È certo però che il mondo ha fatto un progresso enorme e così come lo hanno fatto gli investitori lo hanno fatto anche le banche, quindi il sistema finanziario che con ING rappresento. Come banca quando io sono arrivato in ING nel 2007 la nostra esposizione nei confronti del mondo rinnovabile su scala mondiale era pari a zero. Noi finanziavamo le centrali nucleari, finanziavamo le centrali a carbone, finanziavamo i cicli combinati che stavano arrivando e rappresentavano la novità tecnologica per ridurre le emissioni, ma non c'era una vera strategia per intraprendere un cammino rinnovabile. Questo cammino rinnovabile nel 2007 è partito, curiosamente è partito dall'Italia, quindi l'Italia è rappresentato per il nostro gruppo che opera in 52 paesi, il motore, il traino per portare alla ribalta una sensibilità rinnovabile. Avevamo un sistema di incentivazione forse anche un po' eccessivo rispetto a quello che poi era la sostenibilità. Sistema di incentivazione che comunque era presente anche in altri paesi sotto altre forme e con altre modalità, ma in Italia per la prima volta abbiamo cercato di sensibilizzare la banca ad una transizione che adesso è diventata assoluta, perché gradualmente nei 12 anni che ci siamo lasciati alle spalle abbiamo abbandonato l'energia nucleare. Nel 2017, autunno del 2017, abbiamo pubblicato una nuova policy che ci impegna ad abbandonare il carbone entro il 2025 e quindi ormai direi che la strada è tracciata. Camminiamo nella direzione rinnovabile, che poi questa sia eolico, sia fotovoltaico, sia waste management, sia idroelettrico o qualunque altro tipo di tecnologia, ovviamente arriverà sul mercato e si renderà disponibile, chiaramente non sotto forma di prototipo, sicuramente ci interesserà. Devo essere sincero, questo cambiamento che è partito dall'Italia, vede ancora oggi, visto che siamo in Italia, l'Italia fortemente impegnata in questo settore. Noi oggi abbiamo un'esposizione di circa un miliardo e cento nei confronti delle fonti rinnovabili italiane, che peraltro sono interamente finanziate attraverso il supporto che ci danno i nostri colleghi di ING Direct. Quindi per la prima volta siamo anche riusciti a presentarci al mercato con una pubblicità a fine dello scorso anno in cui cercavamo di dare una sensazione di reinvestimento, chiamiamola una piccola forma di circular economy, attraverso il deposito che poi viene reinvestito nelle fonti rinnovabili italiane. La strada è tracciata, lo è ormai a livello di policy, devo dire che anche noi abbiamo dei KPI di sostenibilità interni alla banca che oggi hanno assunto per importanza probabilmente lo stesso peso che potevano avere un tempo i KPI sulla remunerazione del capitale investito. Rossana Revello, coordinatrice della responsabilità sociale per Confindustria. Abbiamo sentito in questi giorni storie e anche qui abbiamo storie di grandi aziende che attivano delle strategie di responsabilità, addirittura nel caso di iera vanno a declinare i singoli obiettivi delle Nazioni Unite. Noi abbiamo in Italia una platea di aziende che mediamente mi pare sia nell'area meccanica manifatturiera otto addetti o nove addetti la media. Insomma, quindi diciamo siamo nel campo delle PMI, ne parleremo più tardi anche con il presidente della piccola di Confindustria Carlo Rubiglio. Voi però avete, come dire, nel vostro sistema avete intanto raccolto delle storie interessanti di più aziende, ma volete incrementare il fatto che poi le aziende vadano in questa direzione. C'è un progetto interessante vostro per cui i temporary manager nati per un incentivo all'internazionalizzazione e all'export, in realtà verranno introdotti con questo vostro progetto anche nelle aziende per gestire la responsabilità sociale. Quindi ci racconti intanto a che punto è questo progetto e quali saranno gli obiettivi di questi manager che entreranno nelle aziende. Come le avete scelte? Dunque, il progetto di temporary manager fa parte di una delle attività che il gruppo tecnico sulla responsabilità sociale di Confindustria sta per avviare. Diciamo, è un lavoro che dura da tre anni e che sta finalmente cominciando a avere delle cose molto concrete. Diciamo, il punto di partenza è stato, noi abbiamo una visione politica. La visione politica è stata quella che il tema della responsabilità sociale, che era un tema trattato in Confindustria nell'area della cultura, e per carità il tema è di cultura, ma sappiamo cosa succede della cultura in Italia purtroppo. E quindi, perché questo tema avesse più peso, questo è diventato per noi un tema di politica industriale. Questo ha significato cambiare il ragionamento sulla responsabilità sociale e la sostenibilità e parlare di competitività. Allora, questo è stato il nostro primo cambiamento che ci ha portato a una visione politica da una parte e delle attività, cioè di come mettere a terra le cose. Perché poi il punto è che, e io ormai frequento questi ambienti da tanti anni, di parole ne ho sentite proprio tante, ma di fatti ne ho visti un po' meno. Allora, che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato intanto a capire dove sono questi fatti e come li possiamo valorizzare. Allora, noi abbiamo fatto un manifesto, che è il manifesto di Confindustria sulla responsabilità sociale d'impresa, e da più o meno un anno e mezzo lo stiamo portando in giro per i territori italiani. Questo cosa significa? Che io giro il paese e fino ad oggi avrò incontrato qualche centinaio di imprese e di imprenditori. Ognuno di questi mi racconta la sua storia, ed è, devo dirvi, un'esperienza straordinaria, perché la maggior parte di queste storie sono sconosciute, e ti testimoniano quanto le imprese siano avanti nella loro cultura e nella loro vita rispetto a certi temi, e quanto altre imprese invece non ci sono ancora e ci chiedono aiuto, ci chiedono supporto, ci chiedono strumenti, ci chiedono cose concrete. Allora, una cosa concreta a cui noi abbiamo pensato è quella, dato che il tema della responsabilità sociale è un tema di governance, quindi sostenibilità, responsabilità sociale, io lo dico sempre, non sono temi di marketing, è un tema di governance, è un tema che sta dentro alla visione dell'imprenditore e l'impresa, allora l'idea è stata quella di prendere un esempio, cioè il temporary manager per la internazionalizzazione è una roba che ha funzionato, sono manager finanziati, che quindi non costano nulla alle piccole e medie imprese, che vengono ad affiancare gli imprenditori nel loro percorso. Dato che questo percorso funzionò, abbiamo deciso di copiarlo e quindi di proporre un temporary manager per la sostenibilità e la responsabilità sociale. Il progetto è praticamente concluso, cioè stiamo per lanciarlo, è un progetto pilota per il momento, selezioneremo 20 imprese su tutti i territori, alcuni ovviamente sono quelli che io ho incontrato e che si sono già candidati in questo percorso. Abbiamo formato insieme a Federmanager 10 manager, partiamo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, il progetto si dovrebbe chiudere entro maggio del prossimo anno e diciamo sono manager che si affiancano agli imprenditori a titolo gratuito, ripeto, per raccontare agli imprenditori come si sviluppa un processo e si può cambiare il proprio modello di business attraverso la sostenibilità e lavorando con loro su piani strategici, lavorando su attività molto concrete in modo che poi questi imprenditori possano proseguire da soli in questo percorso o decidere diciamo di inserire questa funzione al loro interno ma diciamo in una logica ovviamente autonoma. Guardando anche poi quali sono i risultati ottenuti su queste attività di responsabilità social. Io tornando ad Agostoni, Presidente di ICAM, volevo magari capire un po' meglio che cosa accade quando voi fate e siglate uno di questi accordi di filiera all'estero, per esempio in Uganda avete deciso di investire perché questa è una delle aree da cui voi prendete la materia prima. Che cosa intendete fare, che cosa fate fisicamente con gli agricoltori locali? Facciamo quello che serve nel territorio, quello che facciamo in Uganda per esempio è molto diverso di quello che facciamo in Peru o in Dominicana. In Uganda il nostro rapporto è nato diversi anni fa, in un paese dove il cacao non era una cultura fondamentale, c'è più caffè, c'è più altro, quindi coltivato da contadini con piccoli appezzamenti in un modo assolutamente barbaro, diciamo così, soprattutto nel senso che venivano fatte in maniera non adeguata due passaggi importantissimi per il cacao, cioè dopo il raccolto c'è la fase di fermentazione e la fase di essiccazione che sono, non dico la cosa più importante, ma il prodotto finale, il cioccolato voglio dire, dipende moltissimo da come si fermenta e da come si essica il cacao e questo veniva fatto in maniera, per cui in quel caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un centro di fermentazione e di essiccazione nostro, comperando il cacao direttamente fresco dei contadini e questo che cosa ha permesso? Ha permesso tanti fattori positivi. Innanzitutto il contadino evitava il lavoro di fermentare e di essiccare, evitava il rischio che questa fermentazione e di essiccazione fatte in maniera non adeguata potessero poi far sì che il suo prodotto venisse comperato dal mercante a prezzi scontati, per non dire bassissimi. In effetti il cacao ugandese anni fa non era un cacao conosciuto nel mondo, quindi depreciato in tutti i sensi. Altri effetti positivi che abbiamo scoperto, c'è un bel filmato prodotto da noi in collaborazione con Spesalvi, la fondazione della Cattolica, in cui i contadini dicono il tipo di vantaggi che hanno scoperto. Abbiamo scoperto noi stessi per esempio che la fermentazione fatta in casa, la fermentazione esala degli acidi. Ebbè noi diciamo che è molto bello questo che ha fatto Icam perché facendo la fermentazione da loro, non più in casa, il nostro tetto fatto di lamiera non si aruginisce più. Oppure non c'è più paura dei ladri. I bambini possono andare a scuola perché non sono costretti durante la fermentazione a seguire il processo. Insomma, una serie di vantaggi che hanno fatto sì che i contadini vedessero con grande entusiasmo questa cosa. Ma la cosa importante è che nel giro di pochi anni la qualità del cacao prodotto da noi e in maniera poi come esempio anche da altri ha fatto sì che il cacao grandese sia diventato un cacao pregiato. Oggi il cacao grandese è un cacao che in molti casi molti pasticcieri stellati preferiscono. Per cui è diventato un cacao che ha potuto essere quotato in borsa a premio. Quindi questo con un vantaggio enorme per tutto, non solo per i contadini che vendono noi il cacao, ma per tutta l'area. Quindi questo è il tipo di effetto che lì si è creato. Ma è una cosa simile a quello che si è creato in altri paesi. Lo accennavo prima, l'idea di affiancare i contadini o le cooperative in maniera che in questo partenariato fra noi e loro, assicurando e molto importante, questo lo accennavo prima a Dottor Scordamaglia, l'acquisto, che dà una garanzia fondamentale alla cooperativa, questo partenariato ha fatto sì che migliorando la quantità e la qualità sia creata una reale sostenibilità per cui non c'è più l'abbandono delle campagne per andare a Merebidonville. E quindi il contadino diventa una persona che ha un reddito dignitoso. Non c'entra niente con la sostenibilità, ma da dove arriva il miglior cacao al mondo? Ma diciamo che in generale si considera l'area latinoamericana, però devo dire che recentemente abbiamo avuto dei pasticcieri stellati che hanno preferito il cacao Uganda, per esempio, e la nostro marchio di Stop, che è il marchio Vanini, in nome della mamma, abbiamo nell'ultima serie di tavolette prodotte utilizzato proprio il cacao Uganda, quindi poi chiaramente è come dire il vino, il vino migliore del mondo, è chiaro che dipende molto dai gusti, però questa è la cosa. Grazie ad Agostoni, torniamo a Dera, a Stefano Veniera, le molti utility. Se posso dire un'ultima cosa importante, prima accennavo appunto a Dottor Scordamaglia, il problema della sostenibilità, quindi del terreno, cioè la nostra esperienza ci dimostra una cosa molto importante, cioè che la produttività media mondiale di un ettaro di cacao, di Pantagione cacao, è di circa 500 chili per ettaro, ma biologico si può arrivare tranquillamente a 2.000 chili per ettaro, semplicemente usando metodi di coltivazione e qualità e varietà più interessanti. Quindi questo vuol dire che il problema della sostenibilità non è tanto un problema di aumentare qualche prezzo, ma di far sì che attraverso la formazione, attraverso un certo tipo di rapporto con l'utilizzatore, si possa elevare questa percentuale, questa produttività, perché anche come consumo di terreno dovessimo magicamente, improvvisamente passare da 500 a 2.000, si potrebbe ridurre di un quarto, addirittura di quattro volte il terreno utilizzato. Ecco il problema della sostenibilità dove si continua. Grazie, torniamo alla multi utility, mi veniva in mente che anche in settore apparentemente tra virgolette old, non è un settore high tech, ma diciamo un settore legato alle old economy, ci possono essere innovazioni interessanti. Ho incontrato di recente una cooperativa che fa manutenzione nelle strade e hanno siglato recentemente una partnership con una piccola start up modenese, per cui le squadre che vanno sul campo a operare e fisicamente vanno a riparare un buco, a riparare una tubatura del gas, sono collegate con questi occhiali tipo Google glass forniti da questa start up, per cui l'operatore sul campo è collegato in rete con la centrale, viene pilotato in maniera diretta, quindi si evitano per esempio buchi magari banalmente nel posto sbagliato e si ha anche una registrazione di tutto quello che viene realizzato nell'operazione di manutenzione, in modo tale che il cliente abbia già un file per cui è certificato quello che è accaduto. Quindi volevo capire anche per quanto riguarda i vostri obiettivi di sostenibilità, Venier, quanto conta l'innovazione tecnologica da voi? Sì, ma conta tantissimo, credo che il grande distinguo che possiamo fare è se la sostenibilità è l'obiettivo, il mezzo è la tecnologia, non c'è altro strumento oggi assieme alla cultura, se poi posso. Tecnologia che è trasversale, ovvio che oggi come oggi prima è stato citato il programma Industria 4.0, è stato un programma fondamentale anche per noi, noi l'anno scorso abbiamo investito 62 milioni in innovazione tecnologica, che su 400 milioni di investimenti è una fetta piuttosto importante, ma che è trasversale a tutto, perché ovvio la più nota è più tangibile e vicina, è quella che riguarda l'interazione con il cliente, ma è molta di più in proporzione quella che c'è nella gestione degli asset. Noi gestiamo l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di euro di asset, per dire se mettiamo insieme tutte le reti che gestiamo facciamo due volte il giro della terra, questo per dire che abbiamo una ramificazione, una infrastrutturazione di beni che hanno la necessità di essere controllati in tempo reale, ma controllati soprattutto oggi non tanto per migliorare l'efficienza dal punto di vista del costo operativo, che è fondamentale, ma vi faccio un esempio, controllati per poterli gestire in maniera più efficace per far fronte agli effetti derivanti dei cambiamenti climatici. Sono ancora più concreto. Il tema del cambiamento climatico ha come effetti, al di là di quelle che sono le perturbazioni di superficie, la crescente siccitosità. Quest'anno qua, a parte ieri, era 60 giorni che non pioveva, il Po è al 25% sotto il livello degli anni precedenti. Questa siccitosità non ha solo l'effetto di ridurre la disponibilità d'acqua e quindi la tecnologia ci aiuta a migliorare le modalità con cui sfruttiamo l'acqua, ma soprattutto ha degli effetti su tutta l'infrastruttura, perché il terreno asciutto crea delle pressioni sulle tubature, che sono prevalentemente quelle di ramificazione in plastica, per cui il numero di rotture che si vengono ad avere, si sono avute in un anno come il 2017, particolarmente siccitoso, sono state tra il 25 e il 50% superiore alla media degli anni precedenti. Quindi a cosa ci sei, e questo lo dico per porlo in relazione alla tecnologia, in che modo? È chiaro che se io voglio riuscire a gestire questa infrastruttura che è sottoposta a sollecitazioni per cui non era stata progettata, l'unico modo che ho, o la sostituisco, impossibile, oppure devo provare a trovare delle modalità di gestione in tempo reale, che richiedono quindi di rendere quell'infrastruttura completamente digitalizzata. E questa è una strada, e ovviamente con la progressiva acquisizione di informazioni riesco poi anche a ottimizzarne l'uso. E questo è un esempio di come la tecnologia ci può aiutare poi a gestire un'infrastruttura, a rendere il servizio, garantire una business continuity sul servizio che ha tutte le implicazioni che ne derivano. L'altro aspetto è la cultura, non è tecnologia, però non dimentichiamo che c'è anche questo aspetto, perché come diceva Peter Drucker, la cultura si mangia la strategia a colazione. Quindi quando parliamo di tematiche di sostenibilità, quando indirizziamo l'azienda su strategie che incorporano i temi di sostenibilità, dobbiamo necessariamente cominciare a indirizzare e a discutere della cultura dell'azienda, facendo capire all'interno dell'azienda che è cambiato in un certo senso il senso dell'azienda. Oggi si fa un grande dibattito sul senso delle imprese. Il senso delle imprese ha nella sostenibilità un pezzo fondamentale, se la sostenibilità è parte e viene considerata parte della mission, da parte del management e non greenwashing. Anche se mi sembra il concetto dell'ova della gallina, è vero che la cultura è importante, ma voi per esempio avete posto questi come obiettivi strategici, quindi tutta l'azienda lavora per raggiungerli. Quindi si innesca un meccanismo virtuoso per andare verso la direzione che però voi avete indicato. Assolutamente sì, infatti c'è un tema di commitment del management, il management deve far capire alle persone che lavorano nell'azienda che questo non è greenwashing, non è marketing, è parte del why dell'azienda. E in quel modo lì poi quando le persone percepiscono che ciò che fanno è fatto in funzione di un obiettivo condiviso che parte dal vertice, ecco che c'è quel meccanismo di engagement che poi cambia progressivamente la cultura. Passiamo dal grande gruppo della multi utility al grande gruppo finanziario e come si declina da voi la sostenibilità all'interno, capizzi? Anche per noi fa parte delle strategie di gruppo, ormai la sostenibilità rappresenta il KPI principale per tutti noi, quindi a partire dall'amministratore delegato, c'è un commitment che è ben definito dal nostro management e a cascata viene rilasciato all'interno del gruppo. Abbiamo nel mondo circa 34 milioni di clienti che speriamo di poter accompagnare in questa fase di transizione. Inizialmente per noi la sostenibilità era soltanto ed esclusivamente energia rinnovabile, poi nel tempo abbiamo imparato a capire che ci sono tanti altri modi di declinare la sostenibilità e quindi il blockchain e quindi la circular economy e abbiamo creato infrastrutture interne con persone dedicate a questi temi che in realtà operano, se vogliamo, con un doppio livello o con una doppia missione. Quella di rappresentare la banca all'esterno e quindi riuscire a trasmettere un messaggio che è quello di una banca che sta cercando di innovare se stessa anche per non essere innovata da terzi, che è un rischio che ovviamente corriamo come provider di servizi e contestualmente fare in modo che questa cultura gradualmente sia ovviamente conosciuta e riconosciuta come fondamentale all'interno del gruppo. Devo dire che questo messaggio che facciamo nostro spesso in qualche occasione è anche difficile riuscire a spiegarlo esternamente perché qual è l'effetto immediato? È chiaro che se non posso più lavorare con un cliente ci sarà sempre un'altra banca che sarà disposta a lavorare con quel cliente e mi è capitato di sentirmi dire recentemente che questo nostro atteggiamento da charity non porterà da nessuna parte. Francamente preferisco avere un atteggiamento da charity e partecipare a questo cambiamento che poi rincorrere o essere innovato da terzi magari tra qualche anno. Simone Mori, il cambiamento della mobilità elettrica quanto tempo ci vuole per vedere le colonnine diciamo visivamente un po' dappertutto nella nostra città? State già prenotando gli spazi? Si sta andando avanti abbastanza velocemente e certo siamo al percorso, siamo all'inizio di un percorso, molto va fatto ancora ma è un processo progressivo, è un processo progressivo che avanza, lo dicevamo prima, avanza con la tecnologia. Secondo gran parte degli studi internazionali fra il 2022, 2022, 2024 un'auto elettrica considerando il ciclo di vita piena di utilizzo di un'auto elettrica avrà prestazioni migliori e costirà di meno della cugina corrispondente a motore a combustione interna. Quindi credo che il processo di infrastrutturazione sia partito in modo abbastanza deciso, aumenterà l'intensità nei prossimi anni, coinvolge le città, coinvolge i sindaci, coinvolge i gestori di infrastrutture in Italia e in tutto il resto d'Europa, ma al contrario di quello che a volte si potrebbe dire, la barriera infrastrutturale non è veramente un problema, cioè noi crediamo che questo progressivo miglioramento dell'infrastrutturazione andrà di pari passo con la diffusione e con la diffusione dei automobili. Non c'è una vera e propria barriera, le reti elettriche, soprattutto quella italiana che è la più digitale del mondo, noi abbiamo tutta una serie di record di record energetici non molto conosciuti, abbiamo le reti più digitali del mondo, l'Italia è il paese del mondo sviluppato che utilizza meno energia per creare un'unità di ricchezza, questo è un altro importantissimo, gli unici che ci battono sono gli inglesi, ma sono troppo facili, fanno ricchezza essenzialmente in un'economia di servizi, non manifatturiera. Quindi io credo che noi si debba essere assolutamente ottimisti a questo punto di vista. A proposito, ottimisti sulla diffusione, parliamo un attimo di prezzi in previsione, quando il governo, qualsiasi governo futuro comincerà ad accorgerci che le accise e le iva dalla benzina si cominciano a ridurre, dove va a finire il prezzo dell'energia elettrica? Ma le politiche fiscali rispetto all'uso dell'energia esulano abbastanza dal dibattito di oggi perché sono una complessità enorme. Salirà, immagino. È chiaro che ci sarà uno spiazzamento relativo di un combustibile nei confronti dell'elettricità, dei combustibili forse nei confronti dell'elettricità, non è un processo che avverrà rapidamente, del resto non è che la bolletta elettrica non sia gravata oggi, da oneri e costi più o meno proprio, che vanno da una fiscalità particolarmente pesante rispetto agli altri paesi europei, da tutto il mondo dell'Unione del Sistema, che in altri paesi vengono caricati sulla fiscalia generale. Quindi è chiaro che ci sarà uno spostamento ed è abbastanza evidente che alla fine il tempo di transizione consiglierà ai governi di prendere i medi. Io credo che quello che è veramente importante in questa fase invece, siccome è una seconda transizione epocale, è parlare di società, è che la società riesca a seguire questa rivoluzione in modo efficace, con un pieno coinvolgimento. Dei cittadini ovviamente perché le autoelettriche non vanno da sole, vanno perché i cittadini cominciano a comprarle, cominciano a utilizzarle, si rendono conto che sono un passaggio importante per migliorare non solo la qualità della vita, ma la qualità dell'aria, dell'inquinamento della nostra città, ma anche delle filiere industriali. Cioè c'è stato un grande dibattito, la transizione dai combustibili fossili all'elettrico in questo caso avrà un impatto sulle filiere, sulle filiere industriali a livello europeo, è chiaro. È un impatto che va gestito con serietà, consapevole che comunque è una sfida che non possiamo evitarci, perché poi quando la tecnologia ti porta il cambiamento non puoi far finta che non ci sia, ma anche consapevole del fatto che le nostre filiere manufatturiere italiane ed europee non partono battute, non hanno nulla da invidiare, è un tema di cui per esempio con Confindustria, insomma che qua è un organizzatore, ci siamo posti, ci stiamo ponendo perché crediamo che anche questa possa essere, se gestita con intelligenza, una leva di cambiamento positivo e che alla fine non ci farà perdere posti di lavoro, ma al contrario ce ne creerà di più qualificati. Grazie, chiudiamo questa sessione cambiando anche tema, perché tra le buone pratiche c'è sicuramente la sostenibilità, il rispetto dell'ambiente, ma c'è anche la valorizzazione della risorsa interna, costo e non patrimonio, come ricordava prima Giovannini, e poi invece è definita come patrimonio di ciascuna azienda, anche perché poi andando a maggior ragione in una economia sempre più basata sul know-how e la capacità poi delle persone, se c'è un futuro del posto di lavoro, è un futuro dove emergeranno le qualità dei nostri cervelli dove le macchine non possono arrivare, quindi a maggior ragione patrimonio e non costo. Rossana Revello si sta sviluppando anche dopo un'importante svolta normativa in Italia che ha incentivato i pacchetti di welfare attraverso più formule monetarie e non solo. Ecco, in Italia c'è stata effettivamente un'accelerazione di queste pratiche all'interno delle aziende e voi avete raccolto effettivamente da più territori e da più filiere questa accelerazione. Sta ancora crescendo? È un trend che continua questo? Dunque, direi che ci sono dei dati veramente sconvolgenti, in senso positivo. Nel senso che, intanto, tornando a quello che dicevo prima sui miei incontri con gli imprenditori nei territori, un mese fa più o meno a Pescara ho conosciuto un imprenditore che mi ha detto quando io i miei collaboratori non li chiamo dipendenti, perché la parola dipendenti non è adeguata, è, come dire, diminutiva. Io li chiamo collaboratori perché loro sono parte della mia vita come io sono della loro. E il senso di, diciamo, soprattutto in una piccola impresa, il senso di appartenenza, il senso di collaborare insieme è un punto chiave, che è quello che poi, insomma, come dicevi anche tu prima, in Italia ricordiamoci che abbiamo più o meno 6 milioni di imprese in tutti i settori, di cui 4 milioni e 2 sono al di sotto dei 9 dipendenti. Quindi le piccole e medie imprese italiane si aggirano sui 600-650 mila imprese, tutto il resto sono imprese sotto i 9 dipendenti. Quindi è chiaro che il capitale umano è l'elemento chiave, che poi, peraltro, è l'elemento che ha permesso a questo Paese di sopravvivere a tante cose. L'eccessiva frammentazione, che è un elemento di debolezza su certi aspetti, è stato, peraltro, invece, un elemento di continuità. Allora, dicevamo prima il welfare aziendale. Il welfare aziendale è, forse, uno dei primi elementi, diciamo, in cui gli imprenditori si sono mossi, indipendentemente dal fatto che poi è arrivata una legislazione che ha aiutato. Però è un elemento, diciamo, anche storico, no? Ci sono imprenditori molto orgogliosi del fatto che sono anni che hanno, diciamo, inserito all'interno della loro azienda buone pratiche sulla conciliazione vita-lavoro, sugli aiuti economici ai dipendenti. Un imprenditore di Parma mi raccontava che negli ultimi anni ha notato sempre di più una richiesta da parte dei dipendenti a ricevere in anticipo i TFR o parte dei TFR. Allora hanno pensato, invece che andare a toccare il monte dei TFR, mettiamo noi azienda a disposizione un fondo, in questo caso erano 150.000 euro, ai quali i dipendenti possono accedere per le loro spese sanitarie, per le spese per i figli. Diciamo, è un welfare aggiuntivo, che però, cioè, questa è un'azienda di 90 persone, nel settore della meccanica, appunto, dicevo, a Parma, che lo ha fatto assolutamente in maniera spontanea. I dati cosa ci dicono? Ci dicono, questa è un'indagine recentissima, è uscita del welfare index poche settimane fa, è un'iniziativa a cui Confindustria partecipa, tra l'altro, da alcune edizioni, dove il campione di imprese che è stato selezionato si era partiti da più o meno 2.000 imprese, oggi siamo arrivati a 4.500, più o meno. Ecco, c'è un aumento, naturalmente le grandi imprese hanno un ruolo chiave, il 71% delle grandi imprese italiane fa e ha pratiche di welfare aziendale. Le piccole e medie imprese, e qui c'è un dato che mi ha molto colpito, hanno, nell'ultimo anno, quindi un anno solo, sono aumentate dal 20 al 45%, e di queste le micro imprese, quindi imprese al di sotto dei 9 dipendenti, dall'11 al 25%. Quindi questo, diciamo, è un elemento chiave e alla domanda, ma perché voi piccoli imprenditori lo avete fatto? Allora, le risposte sono state, da una parte ci rendiamo conto del ruolo sociale dell'impresa e dell'imprenditore, quindi una consapevolezza del ruolo che esiste indipendentemente da tutto. Un altro elemento è che molti di questi imprenditori stanno acquisendo una visione di lungo periodo, perché questi sono discorsi che fa un imprenditore che vuole vedere la sua azienda fra dieci anni, la vuole vedere in un ricambio generazionale, non la vuole vedere solo sull'oggi, sul risultato dell'oggi, ma sul domani, e questo è un altro elemento fondamentale. E poi hanno detto, abbiamo visto dei vantaggi concreti, l'impatto è stato positivo, la produttività dei dipendenti è aumentata, ci sono dei risultati positivi per l'impresa. E questo, diciamo, per un imprenditore è l'elemento, diciamo, l'elemento guida. Dirimente è fondamentale. E tutto questo nell'ottica complessiva. Grazie, grazie, dirimente è fondamentale, anche perché poi ricordiamoci, per quanto poi esistano situazioni più o meno, diciamo, illuminate, il meccanismo che funziona a tutti i livelli è se queste operazioni di sostenibilità producono poi dei vantaggi in termini di reputazione, competitività e quindi poi si possono tradurre alla fine in una situazione aziendale mediamente più stabile e più solida, perché altrimenti il sistema comunque non sta in piedi.